No, non è vero che non lo sappiamo come andrà a finire, perché è venuto in mente quella scena del Vangelo in cui gli apostoli anche lì in un momento un po' di disagio non sapevano il loro destino, Gesù se ne andava, cosa succede, poi Gesù faceva i miracoli e loro erano un po' impacciati e Gesù disse guardate che voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io e vi assicuro che è proprio vero. Grazie di tutto.